Sì, allora appunto riguarda il nostro brand principale del mondo body care, si chiama Neopromand e lanciamo la nuova linea di deodoranti. Quindi sono appunto tre linee, come vedete alle mie spalle, per coprire tutti i bisogni appunto del mercato di deodoranti. Neopromand è un brand storico nel mercato italiano, presente appunto nella Pura Corpo. Ci mancava di completare la nostra diversificazione di alma con una linea di deodoranti basata appunto sui valori storici di Neopromand e quindi il rispetto della pelle, la performance, la delicatezza e sicuramente la freschezza che è uno dei benefici principali del mercato di deodoranti. E' l'ultimo segmento che ci mancava nel mercato di Pura Corpo e quindi volevamo appunto completare il nostro portafoglio. Siamo presenti nel bagno schiuma, nel dolce schiuma, nel mercato dell'intimo dove abbiamo la seconda posizione del mercato quindi siamo un attore molto piano. Ci mancava il segmento principale del mercato body care che è quello di deodoranti. Abbiamo deciso che era il momento con il nostro brand principale Neopromand di entrare in questo segmento. Ci aspettiamo sicuramente una forte fiducia al nostro brand, quindi su questo siamo già molti dati qui su Montolore e quindi ci aspettiamo chiaramente i nostri risultati e speriamo già a fine dell'anno di raffinare dal 3 al 5% di ruota. Con un piano a 360 gradi ormai sempre più integrato dai media classici, un forte investimento in tv che è già partito da due settimane in tutte le reti digitali e tradizionali, più un piano digitale, un piano stampa e un piano appunto vendita di supporto molto molto forte. È partito proprio adesso a maggio, è un momento di stagionalità dei deodoranti, l'estate, ma si concluderà a fine anno a dicembre perché sono veramente fortissimi investimenti.